addio a pino d'angio simbolo della musica degli anni 80 articolo su pino d'angio un addio a pino d'angio simbolo della musica degli anni 80 con profondo rammarico è stato annunciato il decesso di giuseppe chierchia meglio conosciuto con il nome d'arte di pino d'angio il musicista e cantante considerato uno dei principali rappresentanti della scena musicale italiana degli anni 80 lascia un'eredità musicale impressionante e una schiera di fan che lo hanno venerato per decenni pino d'angio è nato nel 1952 a pomeriggio in italia e ha iniziato la sua carriera negli anni 70 ha ottenuto il successo nel 1980 con il successo ma quale idea la canzone ha suscitato scalpore non solo in italia ma anche a livello internazionale ed è diventata un best seller in molti paesi ma quale idea si distingue per una miscela di funk disco e tipici elementi pop italiani che hanno reso la canzone un orecchiabile inconfondibile nonostante il grande successo di ma quale idea d'angio ha avuto difficoltà a replicare lo stesso successo con gli album successivi tuttavia è rimasto attivo nella scena musicale e ha continuato a produrre musica che spesso si distingueva per mix di generi creativi e melodie orecchiabili negli ultimi anni d'angio ha ridotto le sue attività a causa di problemi di salute diverse fonti riportano che da un po di tempo soffriva di una grave malattia tuttavia pino d'angio è rimasto ottimista fino alla fine e ha mantenuto un atteggiamento positivo che ha trasmesso anche nei suoi ultimi spettacoli pubblici e interviste amici e colleghi dell'industria musicale lo ricordano con messaggi commoventi e oneste valutazioni molti sottolineano quanto abbia influenzato e plasmato il panorama musicale lorenzo giovanotti un noto musicista italiano si è dichiarato profondamente commosso e ha definito dangio un pioniere rivoluzionario della musica italiana l'opera di dangio continuerà a ispirare e a piacere a molte persone anche se non è più tra noi la sua musica rimane senza tempo e sicuramente troverà apprezzamento nelle prossime generazioni il suo spirito creativo e la sua energia inesauribile si manifestano in ogni sua composizione e il suo influsso non può essere negato la famiglia d'angio ha espresso la propria gratitudine in una dichiarazione ufficiale per le numerose manifestazioni di cordoglio e il sostegno ricevuto dai fan chiedono di rispettare la privacy della famiglia in questo momento difficile pino dangio non era solo un cantante era un simbolo di un'epoca un artista che sapeva comunicare gioia ed emozioni attraverso la sua musica la sua morte segna la fine di un capitolo ma il suo lascito musicale rimarrà indelebile autore anita fa che domenica 7 luglio 20 water